Musica Bella a tutti ragazzi, sono Antonio Milione e oggi sono qui in questo nuovo video Sempre in compagnia di... Iben E siamo su Left 4 Dead per affrontare questa sopravvivenza Speriamo di sopravvivere più a lungo, abbiamo fatto già una partita di prova E siamo sopravvissati 3 minuti sculati proprio Direi di avviare Con 4 minuti di bronzo 4 minuti di bronzo Ok, avviamo Adesso arriva l'arametto di rubli Metto sulla mitragliatrice qua Eccoli Guarda che arata di... Ecco Già il giochi irrumpe Sembra lucidere, grazie Ottimo Oh cacchio Dobbiamo cercare di sopravvivere almeno 4 minuti Così possiamo battere... Almeno possiamo raggiungere la medaglia di bronzo E ci stiamo soddisfatti Cacchio, cacchio No, giochi, migliori giochi Un attimo che arrivo Ottimo direi C'è un cerceri che mi sta violentando Si prospettava una partita molto lunga Oh cacchio Ecco, morto Incredibile Best partita Eva proprio E' il video più breve dell'attore Incredibile Vabbè, proviamo a fare una lastra dai Come mai prima siamo riusciti a resistere 3 minuti? Non so come Perché sono morto io perciò Il pro del gioco Attenzione Prendo quasi quasi un bel fucile a pompa Stavolta Prendo le munizioni incendiarie le piazzo Prendete le munizioni incendiarie Yeah Prendi il kit medico Ok Vabbè Mitrachatrici 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 Grazie Sto sparando con la mitrachatrici Ecco fatto Che prodigia Attenzione Poi di esplosione atomica Poco kaboom Stavolta 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 Mi sento proprio rocchi Posso fucile Oh Non mi sparare Che, che, che Che fa? Eh perché sale l'idiota Eh perché così si rompe le palle Muori Charger Oddio No, 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 no Cacchio Ottimo Ti ha buttato la bomba Ti ha buttato la bomba Io A genius Muori Muori Muandali Oddio Stai dando un'orcia mega galattica di zombie No, mi ha preso Come si chiama S Sta su un po' Sta sul tetto Bastardo hell Morsico Morsico No Mi stanno vedendo Dai 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 aiuto a pomeriggio il medico sta sopra bono aspetta sto mangiando un po' e dai però altro tentativo più lungo della storia guadagnolo non partiamo più il regolo di merda che non è un regolo, ottimo vieni sopra a prenderti le munizioni incendiare dopo perchè hai avviato ok ci sono cacchio, cacchio eh no vabbè il pippaiolo mi ha preso questo durerà anche di meno e vai ma quel lì che è inutile porca miseria al meglio di 4 dai al meglio di 3 ore dopo al meglio di 9 anche loro hanno no, no, no chi ti ha preso? no, spitto, spitto si spara a caso nooo levate dalle piglie grazie mother di merda allora perchè questo zombie del cacchio amore? ottimo un trago dovrebbe arrivare il tank quindi prepariamo tipo una grappola eccolo, ho arrivato i barili, i barili ottimo, ho fatto scuola i barili chiuso muori, 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 muori eh vabbè grazie bellito medico nel caso di usarlo ancora c'ho una bomba eh vabbè come la metto io pillole, 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 pillole via adesso mi sento si è drogato a dovere oddio proprio la mira di merda mi sentono munizioni sono qua eccola un altro cosa di pillole oh mortally stand culo oh giochi fatto c'è anche lo splitter c'è uno splitter sopra un charger sopra il tetto oddio bomba 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 lo butto io no ottimo boomer dove è il charger ah ecco no no ho preso no pillole, 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 pillole ottimo non c'è tutta la vita quasi molto il charger sei il tank se mi dà una mano come se lo chiamo il charger non lo so anche se si chiama tank ottimo ah ci sia c'è sia il charger che il tank aspetta no ho preso abbiamo battuto il nostro record e battuto il record incredibile incredibile dobbiamo arrivare al bronzo dobbiamo arrivare al bronzo dai ma anche no è un bronzo di merda dai no finiamo qua se il video dura all'infinito questo video scazzo proprio letteralmente è finito qui siamo riusciti a battere il nostro record di 11 secondi incredibile siamo troppo forti se volete altri video su Left 4 Dead anche missioni campagna lo so oppure altre sopravvivenza scriveteci nei commenti che cosa fare se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento e lasciate un mi piace anche alla pagina di facebook che come sempre è nella descrizione saluto stronzo 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 saluto 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 eva saluto eva si beca al prossimo video ciao a tutti aggio saluto 상 credits saluto saluto Grazie a tutti.